Le emozioni negative sono una delle principali cause di stress nel cavallo e lo stress è alla base di problemi comportamentali seri che vedremo poi nel prossimo modulo come il tic d'appoggio, il ballo dell'orso, quelli che rosicchiano di tutto, insomma che poi sono dei vizi che anche quando eliminate la causa di stress il cavallo non è più stressato, quelli lì non li togliete più, quelli lì sono dei vizi che rimangono perché non è possibile toglierli, almeno per le mie esperienze non si riesce a levagli. Quelli lì rimangono per sempre, anche perché poi ve lo dirò ma comunque quando un cavallo ticchia rilascia endorfine per cui nel momento in cui ticchia lui sta meglio, per cui quando capisce che facendo così sta meglio, cioè si sente meglio, poi lo fa anche dopo, anche quando non è più stressato. In più appunto le problemi fisici, proprio patologie serie come le gastriti che poi possono esitare ad ulcere e nei casi più gravi possono portare a coliche. Vi ricordo che le coliche intestinali dei cavalli sono la principale causa di morte nel cavallo per cui sono serissime, non vanno assolutamente sottovalutate. Per cui quando comincia a esserci gastrite, ulcere, il cavallo comincia a non mangiare, a avere quello che si chiama appetito capriccioso, mi raccomando assolutamente dovete porci rimedio. Quindi chiedete al vostro veterinario, informatevi, insomma mi raccomando quelle sono cose importanti che non si possono assolutamente sottovalutare. In più, adesso non vi sto a tediare su come lavora l'organismo di un cavallo, come gli ormoni, mica gli ormoni, insomma questo non ve lo sto a dire perché non vi voglio fare una lezione di veterinaria, però lo stress è causa di immunodepressione. L'immunodepressione è alla base di cavalli che sono sempre malatici, insomma, quindi problemi infettivi, febbre ricorrenti, oppure apparato respiratorio che non funziona come dovrebbe, la tosse, il catarro, insomma, tutte queste serie di problemi qua che magari fanno proprio anche fatica a guarire e possono essere legati assolutamente a problemi di stress. In più, gli infortuni, come vi dicevo, perché può non sembrare ma cavalli stressati si infortunano più sovente. Per cui ridurre tutte le cause di stress può essere fantastico per i nostri cavalli che sicuramente stanno meglio sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista fisico, ma anche per noi che sicuramente otterremo molto di più a livello sportivo da loro, avremo meno a che fare con il veterinario, che è sempre una seccatura sia dal punto di vista di soldi che vengono spesi, di problemi che non si riescono a risolvere, quindi creano stress a tutti. Per cui io ti ringrazio di avermi seguito in questo video, ti aspetto nel prossimo video per parlare di stress e vedremo insieme quali sono i comportamenti dettati dallo stress in scuderia e che cosa dobbiamo imparare a riconoscere.